Osvaldo, hai visto che è successo? Una cosa seria, molto seria, non ce l'ho prendere sotto campo. Ti hanno nominato e messo in mezzo senza chiederti il permesso. Sono sacchi di impressioni. Devi vendicarti, ti aiuterò a tornare sulla Terra. Allora, ringrazio. Ecco la casa di Peppe. Peppe sta scopando, è una rarità. Troia, sei una troia, sei una troia. La ragazza deve avere un cervello da gallina per scopare con lui. Salto, salto. Ora ho capito perché tiene tanto alle galline. Ora tocca a Di Pre. Salto, salto. Osvaldo qui ci è andata male. Se continua a sniffare così, verrà a trovarci nell'aldilà. Vai a Terracina e porti un fiore alla tomba di Osvaldo Paniccia. Per quale motivo? Zitto! Zitto! Io stanotte, che io stanotte non ho dormito, ho passato una notte infernale, mi è venuto in sogno Osvaldo Paniccia. Lui ritornerà. Per quale motivo, Giuseppe Simone, te ne sei uscito con delle cazzate incredibili? No, non sono delle cazzate. Come ti sei permesso di prendere i soldi dalla famiglia di Osvaldo Paniccia? Chiedi scusa a Osvaldo Paniccia. Osvaldo Paniccia è una persona che mi sta a cuore. Sei un maleducato. Io me ne vado, io me ne vado. No, tu resti qua. La vedi questa mano? La vedi questa mano? Chiedi scusa. Tu cazzo che ti chiedo scusa. Sei tu che mi devi chiedere scusa a me. Chiedi scusa a Cristian Aiz. Io non chiedo scusa a nessuno. Battara Paniccia. Pollice in su, altrimenti sei come loro. Il successo e i soldi sono importanti, sono una cosa seria e molto seria, ma bisogna sempre conservare la dignità e il rispetto per le persone. Ora andate e diffondete il mio verbo.